In maniera inizialmente leggera riprendo la grafia dove serve, specialmente nel lato in ombra di ciascun dito. Il colore è una miscela di cinabro, nero e poca ocra gialla. Il colore è una miscela di cinabro, nero e poca ocra gialla. Gli stessi ritocchi l'effetto sui piedi. Gli stessi ritocchi. Con un pennello di martora dalla punta sottile riprendo i tratti vivi con bianco titanio. Procedo posizionando i tratti vivi esattamente negli stessi punti di prima. Stavolta curo maggiormente la precisione grafica e le variazioni di spessore e di intensità di ciascun tratto. Grazie. 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 Grazie.